Perfetto, stiamo già registrando, vai Evelyn Vai Evelyn Allora, d'abord ho molto malo al dole in questo momento altrimenti nel livello di mia vita sessuale è molto complicato mi sento asexualizzata Innanzitutto vorrei dire che ho male alla schiena in questo momento e poi per quanto riguarda la mia vita sessuale mi sento asessuale Ressentemente ho avuto dei giorni in mia vita Ma mia madre è decedata in 2018 Mon compagno in 2019 E ho perduto il posto dove ho insegnato più di 20 anni in 2020 Ressentemente ho avuto degli eventi brutti Nel 2018 ho perso mia madre, nel 2018 ho perso il mio compagno e il mio lavoro, infine, nel 2020 L'annone della perdita di mio poste mi ha dato l'impressione di una specie di ducche froide che colla all'interno di me, in tutte le mie cellule e io mi sono detto Questo è un po' di avere un concerto e io vorrei verificare Francesca è caduta, perfetto Cominciamo bene Allora, nel 2018 ho perso tua madre nel 2019 ho perso il compagno nel 2020 ho perso il lavoro e adesso aveva perso Francesca Per pensare alla probabilità in ambiente Aspetta che c'è un ritardo Aspetta, aspetta Stop Don't speak Ok Ricomincio? Sì, ricomincio Vai Ok Quando mi hanno annunciato la perdita del lavoro ho avuto l'impressione di avere una doccia fredda e l'ho risentita, risuonata in ogni mia cellula dalla testa ai piedi e in quel momento ho pensato che questa cosa mi potrebbe far venire il cancro e vorrei verificare a livello esoterico se questa cosa è vera o no C'è la connessione di Francesca Ci sono, adesso vi sento Non so che c'è Non so cos'è Ci siamo? Sì, sì Io credo perché hai cambiato il telefono come router Bravo A posto Siamo a posto allora Adesso dovrebbe funzionare Ho chiuso tutto quello che era aperto Cazzate però ho detto magari Loro l'ho messo vicino alla finestra Dovrebbe andare Va bene, dai Allora Lei pensa di poter avere il cancro a causa di questo stress? Perfetto O questo stress potrebbe causarle poi un cancro eventualmente Ok, poi? E che... Can you repeat? Sì La dernière cosa Avant l'annuncio della parte del lavoro Sì, sì Sì Ok Sono stata diagnosticata bipolare nel 2003 Le mie sorelle lo sono pure E mio padre lavorava in un ospedale psichiatrico Mi delir sono sempre a carattere mistico Mi prendo sia per il Messia o per la madre che ha creato questo mondo Lorsche j'ai fatto ma première bouffa delirante C'è una forza esterna dentro di me Come qualcuno che mi prendesse i capelli da dentro E mi obbligasse a fare sì con la testa quando io volevo dire di no O a dire la verità quando io non volevo dire sì Nel 2019 ho avuto un altro delirio nel quale sia in un giorno che in una notte Non ho vissuto, non ho ricordato Durante questi giorni ero ospedalizzata E una voce interna mi diceva che dovevo riflettere a come migliorare la vita sulla terra Ed è stata una tortura mentale per me Ho avuto delle rivelazioni mistiche come per esempio che il corpo è soltanto un conduttore per vivere la vita E che la ghiandola pineale è la sede dell'anima Nel 2022 durante un altro delirio avuto altre rivelazioni Rivelazioni come per esempio che la luna è un astro pieno d'acqua o riempito d'acqua Che la creazione è un atto pervertito Che la potenza femminile è la potenza primaria e il maschile è secondaria E come altra rivelazione ho avuto che le donne non avrebbero bisogno degli uomini per avere bambini Da subito dopo la presa dell'appuntamento per la sessione ho cominciato di nuovo ad avere questo genere di deliri Nel quale sentivo sia la voce di Nathalie sia la voce di Carlo Ma questa cosa la capisco perché non esiste né spazio né tempo Quando ho questo momento di delirio è come se Dio parlasse attraverso di me E io mi esprimo in modo completamente inabituale E in una notte di delirio ho avuto un sogno cosciente nel quale ero nello stesso momento madre e nello stesso istante figlia anche Quindi io ero questo bambino ad un certo momento sentito uno scratch Mi sono rivista come madre che guardava questo bambino Ma sapevo che ero io sia la madre che il bambino Mi piacerebbe quindi capire da quello che è un punto di vista esoterico Quello che sono queste mie crisi deliranti e questo sogno Ok Cominciamo Tu rimani in quella posizione Dimmi Posso dire una cosa sul piano sanitario non esoterico? Sì, aspetta, aspetta Angelo dice questo perché è un infermiere professionale quindi ha questo punto di vista No, la prima cosa che ha detto cioè che lei non sente pulsioni sessuali È presumibilmente molto riconducibile all'assunzione di psicofarmaci Bisogneria a chiedere se le assume Ok, posso dire una cosa per rapporto a ciò che lei ha detto al livello della salute? Angelo dice questo perché è un infermiere che lavora in l'hospitala E lei ha detto che ciò che si guarda per rapporto al fatto che lei si sente asexuale Può essere due a dei psicofari? C'è possibile che tu prendi dei medocs? Non Non, non, non Ok Ok Io suppongo che tu rimani in quella posizione, no Evelyn? Io penso, Evelyn, che tu resti in questa posizione? Tu vas rester in questa posizione? Peut-être un po' allongé, allora, attenzione Oh, voilà, peut-être come so Può essere così Il dolore alla schiena, ma non mi ha detto... Qual è il motivo del dolore alla schiena? Prima, dì, qual è la ragione del tuo malo d'olio? La ragione del mio malo d'olio? Devo avere un surpois che gioca, ma oggi ho davvero male Poi c'è un po' il lì che mi fa male d'olio, se è possibile Per quanto riguarda, può essere che il mio sovrappeso gioca un po', oppure il fatto che questo letto non sia adatto o male? Va beh, andiamo a vedere A livello esoterico ovviamente Bene, chiudi gli occhi Eveline Eveline però appoggia la testa sul cuscino perché mi viene mal di testa A me solo a perderti Tu devi apposare la testa sull'orecchio perché ho malato la testa Che quando ti guardo Stai comoda? E tu a l'es? Ok, vedo che capisci un po' l'italiano Però aspetta sempre la traduzione Bene, adesso cominciamo prima con un esercizio dove io ti spiegherò delle cose E mentre te le spiego non voglio che tu mi rispondi con Ok, d'accord Perché so che mi ascolti, devi soltanto ascoltare e rilassarti Ah, chiudi gli occhi e li riaprirai alla fine della sessione Allora, tanto per cominciare con l'esercizio Mi piacerebbe farlo dentro, all'interno di uno di questi ricordi di un tuo delirio Quindi, Evelyn, scegli uno di questi ricordi di delirio Du coup, Evelyn, tu peux choisir un entre 6 souvenirs de laquelle tu as parlé Bene, ne hai già scelto uno? Tu en as choisi un? Uno qualsiasi, eh? N'importe lequel Oh no, che cosa c'è quest'audio un'altra volta? Voglio cambiare la porta USB, per favore Ha detto che n'è solo una Ha detto che n'è solo una Evelyn? Oui, oui Niente, che la estragga e la rinserisca io Il faut che tu debranchi e rebranchi il cable USB Perché la tua voce, si senti molto male Ecccia di parlare? Ecccia di parlare? Non, c'è un brugio di fondo, non è che tu parles Tu devi distrarre e rinserire Eveline? Oui Non Tu devi débrancher il cable USB e rebrancher Si non la facciamo senza cuffie E avvicinare il computer Vediamo Allora, un attimo Allora, adesso Sembra rapidissimo Ok, va bene Allora, se si ripresenta di nuovo il problema Automaticamente Francesca le dici Di staccare le cuffie Avvicinare il computer il più vicino possibile Di metterlo sul letto, sul materasso E continuiamo Ok Allora, io ti previens Au caso dove si rappresenta il stesso problema Con il casco Io ti previens Je ti doi demander D'enlever il casco Debrancher il casco E rapprocher l'ordinateur a toi Come ça va te sentir meglio Già l'ho rifatto di nuovo Io credo che sia la distanza Quando allunga il filo Io credo che sia la distanza Essai di approcher l'ordinateur a toi Facciamo prima una prova con il computer vicino Ma con le cuffie Oui On va fare un test Vas-y, parle Non c'è niente On ne t'entend plus Allora, abbasse un po' la cam Baisse un po' la cam Envers toi Ok Essai di rebrancher Rebrancher le cable On va voir à nouveau Non so perché Ah, sonnava Il balor Ça yé Là ça va Non, non, il microfono è serre, non? Ah si, è vero Il microfono è serre Essai di parler maintenant? Dicete un po' che si Qu'est-ce que je peux dire? No, va bé Sacchiamo le cuffie Dai, sacchiamole Via, fuori, senza cuffie Rien Il faut che tu enlevi le casco E tu le debrancher Parce que t'entends très mal Si, fuori, fuori tutto Buttare le cuffie via Voilà, ok E tu vas mette l'ordinateur envers toi Comme ça on te voit dans la caméra Ok, inquadrate Si, il più vicino possibile alla tua bocca Rapproche l'ordinateur Le plus possible à côté de ta bouche Pas sur toi, sur le lit Dicevano che bisogna migliorare la Terra Salvare la Terra Etcetera, eccetera, eccetera Il faut juste que tu commences a souvenir Allora, era come un sogno? C'était comme un rêve? Non Non, non Ok, allora facciamo così Ti faccio delle domande su questo ricordo E tu mi devi rispondere Con delle risposte molto corte E molto rapide Je ti pose des questions Giovane, adulta o anziana? C'est toi Se on voit Jeune, adulte o âgé? Adulte Adulta Di quello che ti dice Circa la Terra Maintenant, tu dois répéter Exactamente Tu te souviens De ce che ti dice Par rapport alla Terra Est-ce che l'humanità Dovrà continuare A se déplacer En voiture? L'humanità Dovrà continuare A spostarsi in macchina O in auto Qu'est-ce qu'il faut changer Dans les rapports Entre les hommes Et les femmes? Cosa bisognerebbe Cambiare Tra rapport Tra uomo e donne? Les hommes et les femmes Sont pas fait Pour vivre ensemble Gli uomini E les donne Non sono fatte Per vivre ensemble La première guerre Qui se déroule sur Terre C'est une guerre Entre les sexes La prima guerra Che si svolge Su terre O si svolta Su terre E' una guerra Tra i sexi Aspetta un attimo Stop Fermiamoci un attimo Qui On s'arrête Un instant ici Adesso Continuiamo dopo On continua Après Però intanto Dammi la risposta Che t'arriva in mente Senza pensare Et rapidamente Adesso chiedi mentalmente A questa voce Il suo nome Come si chiama Maintenant Demande Avec ton esprit A cette voie Quel est son prénom Quel nome t'arriva in mente Quel est le nom Que t'arriva A ton esprit Il n'y a aucun nom Parce que j'entends Rien du tout Non c'est un nom Perché non c'est un niente Per niente Allora Una cosa importante Evelyn Una cosa importante Evelyn Quello Ricordati Che quello Che tu dici In hypnosis O in pre-hypnosis E' importantissimo Rappelto Che ce Che tu dici In hypnosis O pre-hypnosis C'est très important Quello Che tu dici Lo crei Ce Che tu dici Tu le crei Quindi Se tu dici Non c'è Nessun nome Questo nome Non arriverà Si tu dici Il n'y a aucun nom Ce nom là Ça ne va jamais arriver Quindi Se io ti faccio Una domanda E Per un motivo Qualsiasi Non ti sta arrivando La risposta Rimani in silenzio Que io cambio La domanda Si Je te pose Une question Et pour n'importe quelle raison La réponse N'arrive pas A ton esprit Ne dis rien Reste en silence Je vais juste Changer de question Quindi Non Frases negatives Non posso Non vedo Non c'è Questo Zero E Creare E creare Buona È caduta Francesca Di nuovo A posto Aspettiamo un attimo Che ritorna Francesca Just Let's wait Attends Dai Francesca Ci sentiamo Dai Vai Acuna frase Negativa Je peux pas Je le vois pas Mentre Non ce la facciamo Così Mi sa che per la prossima Devo andare al ristorante Per il Wi-Fi Ok Ok Allora Evelyn Ok Chiedi Come si chiama A questa entità Demande Le nom Demande Le nom A cette entità Bisogna interrompere Così non possiamo andare avanti Aspetta un attimo Atta Niente Non ce la facciamo così Dobbiamo interrompere Se ti sbrighi Ad andare al ristorante Ci arrivi in 20 minuti Magari Facciamo Un'altra prova Spengo un cellulare Che ho lì Magari Prende la rete E riproviamo Ok Cambiamo 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 tutto On va tutto Changer Facciamo così Adesso io Parlo con Angelo Però tu devi stare Molto attenta Evelyn Ma Il faut Che tu resti Très attentif Evelyn Perché devi Devi Visualizzare Devi creare Co-creare con noi E visualizzare Quello che diciamo Perché poi Ogni tanto Passo a farti Delle domande E continuo Con te Perché poi Je vais Commencer A te poser Des questions E continuo Avec toi Benissimo Allora Angelo Dimmi se senti Questa voce maschile Di cui parlavamo Angelo Dimmi No Quello che ho sentito Sono sintomi Fisici Sì Jusqu'à Présentamente Ce che ho sentito Sono sintomi Fisici Cosa Esattamente E qua Esattamente Come se avessi La febbre Alta Tanta Nausea Con cui sto Combattendo E una Specie Di dolore Al cuore Che non so Descrivere Perché è Un'oppressione Tutto Molto Difficile Da gestire Come se J'aurais Una Fiebre Très Elevée Una Nause Con La Che Sono Trane De Battre E Una Dolore Au Cor Très Oppressive Ok Eveline Tu senti Questa Pressione Sul Petto Ressenti Questa Pression Sur La Poitrine Eveline Senti Un Po Di Nausea Ressenti Della Nausea Nausea No Allora Adesso Devi dire Eveline A questa Pressione Nel Plexo Solare Nello Sterno Di Uscire Dal Tuo Corpo E Mettersi E Mettersi Esce dello stesso sterno. Perfetto. Quando è uscita completamente, dimmelo. Bene, che esca pure dalla gola. Quando tutta questa energia è già uscita dallo sterno e dalla gola, dimmelo. Quando tutta questa energia è uscita da tua sterno e dalla gola, tu puoi me lo dire? Sono molto meglio. Ok. Bene, anche se non uscita completamente, non importa. Dimmi solamente questa energia che sta davanti a te è grande o piccola. E se mi dici non la vedi, non la vedi. E se tu mi dici che non la vedi, non la vedi. Allora, un'altra cosa che non ti ho detto. Se io ti do due risposte tra cui scegliere, ne devi scegliere una tra le due. È grande o piccola? È grande o piccola? È grande o piccola? Petite. Piccola. Bene. Dimmi, Angelo, che succede? Confermo, confermo, è molto piccola. Confermo, è molto piccola. Ok, più o meno che forma? Aspetta, no, no. Dimmi una cosa, è piccola, però è magra o grossa? È minso o grosso? Mince. Magra. Alta o bassa? Grande o piccola? Piccola. 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 È una forma che ricorda qualcuno o qualcosa, semplicemente qualcosa? È una forma che ricorda qualcuno o qualcosa? Non. Par contre, sono più malo. Non, ma stò avendo sempre più malo alla schiena. Ah, ok. Esattamente dove? Nella bassa schiena, quella centrale o quella alta? Esattamente dove? Nella bassa? Nella bassa? Nella bassa? Nella bassa? Nella bassa. Ok, lombare. Devi dire a questa molestia nella parte lombare di uscire dal tuo corpo e di mettersi accanto a questa energia piccola. Qu'è che ti dice a questa dolore che ti ha nel bado di uscire dal tuo corpo e di uscire dal tuo corpo e di uscire dal tuo corpo. E se trova in fronte di uscire dal tuo corpo e di uscire dal tuo corpo e di uscire dal tuo corpo. Può essere più grande. Può essere più grande. La risposta è più grande. La risposta è più grande. La risposta è più grande. Beh, ricorda che non solo le cose negativi ma anche le cose dubbiose creano, indeboliscono l'ambiente ipnotico. Rappelle-toi che non solo le cose negativi ma anche le dute, infabili l'environnement ipnotico. È grande o piccola? Una delle due risposti. Una delle due risposti, grande o petite? Petite. Parfait. E questa invece che forma questa seconda? E la deuxième che la forma è là? Di che colore è? E c'è di quelle colore? C'è rectangulaire? Rettangolare. Allora, la seconda energia è rectangolare, giusto? La deuxième energia è rectangolare, c'è questo? E la prima? E la tutta première? Ok, aspetta, aspetta. Non muovere quella testa negativamente. Non muovere la testa negativamente. Non muovere la testa negativamente. Ferma, non fare niente, silenzio e ferma. Non muovere, non muovere, silenzio e non muovere. Ok. Angelo, tu cosa vedi? Angelo, che vuoi? La prima energia, quella molto piccola, l'ho vista tipo una specie di folletto, come immagini. E la seconda? E la seconda? E la seconda? Non l'ho vista, ma quando lei ha detto un rectangle, ho visto un rectangle nero. Ok. E controlla adesso il corpo energeticamente, il corpo di Evelyn, dis-mi se vedi qualcosa di strano. E come se vedessi una persona dentro un'altra persona, come una matriosca? E questa è una sola persona? Una sola persona? Qualcuno che non è lei, è dentro di lei e la occupa completamente. Quelqu'un che non è lui, è all'interno di lui e va l'occuper completamente. Ok. Adesso devi dire a questa persona, Evelyn, che esca dal tuo corpo e si metta anch'essa davanti a te. Maintenant, il faut che tu dissi a questa persona, Evelyn, che sorsi dal tuo corpo e se met in face di te. Da dove la senti uscire? D'où tu la ressensi sortir? Da mio ventre. Dal mio ventre. Bene. Sta uscendo dal tuo ventre e adesso è davanti a te. Elle è in train di sortir da tuo ventre e ora è in face di te. È grande o piccola? È grande o piccola? È grande o piccola? Grande o piccola? È magro o grosso? È mince o gros? Mince. Magro. Magro. Senti questa energia come maschile o femminile? Ressensi questa energia maschile o femminile? Piuttosto femminile e gioca sulla mia ovaia e gioca sulla mia ovaia e gioca sulla mia ovaia. Ok. Adesso è stata fatta uscire da lei. E io vedo un entità prettamente maschile e dominante. E io vedo un'entità maschile che domina. Ma osserva il DNA. È un DNA umano? Osserva un ADN? È un ADN umano? No. No? No. E tu con quale forma lo vedi? E tu Evelyn, con quale forma lo vedi? No, no, no. Angelo. Angelo. È umanoide la forma, ma è color azzurro e sembra qualcosa di non umano. La forma è quella di due braccia e due gambe. È in forma umanoide, ma è qualcosa di blu clare e non umano. Ma è due braccia e due gambe. Allora, Eveline, anche se non visualisci bene, non importa perché c'è sempre un canale più forte dell'altro. Eveline, anche se tu ne visualisci bene, ce n'è sempre un canale più forte dell'altro. Quindi adesso voglio provare il tuo canale télépatico. Du coup, maintenant, io voglio essayer il tuo canale télépatico. Quindi voglio parlare con questa entità attraverso te. Du coup, io voglio parlare con questa entità attraverso te. Du coup, io voglio parlare con questa entità attraverso ton corpo. Posso? Oui, io? Oui. Bene. Allora, tu non devi pensare, mi devi solo dire quello che ti arriva in mente. Allora, tu ne dois pas réfléchire, il faut juste che tu me dissi ce che arriva a ton esprit. Lassami con lui. E lasse-mi con lui. Bonjour. Bonjour. E tu da dove vieni? E d'où tu arrivi? De l'espace. De l'espace. Si, però lo spazio è enorme. Da quale punto esatto dello spazio vieni? Tu lo sai che la terra bisogna salvarla, no? Tu es au courant qu'il faut sauver la terre? Sì, l'umanità è in pericolo. Sì, l'umanità è in pericolo. Il faut nutrire tutto quello che serve per dividere l'uomo dalla donna. Però dimmi perché hai scelto una come Evelyn per portare questo messaggio? Perché è pura. Sì, però ha pure dei problemi fisici. Sì, ma ha dei problemi fisici. Perché ha tutti questi problemi fisici? Perché hai guardato Angelo così male prima? Perché hai guardato Angelo così male prima? Non credo di averlo guardato male. Se ti dico che l'ho guardato male, che l'ho hai fatto. Se ti dico che l'ho guardato male, che l'ho hai fatto. Non vuoi che io sappia che l'ho guardato male? Ne veux-tu che io sache che tu l'ho guardato male? Tu peux toujours regarder. C'è una question point view. Posso sempre guardare. È una questione di punto di vista. Non hai risposto alla mia domanda. Tu n'as pas répondu a ma question. Quali domande le faccio io? C'è moi qui poso le question ici. E tu dai le risposte. E tu ti doni juste le réponses. Come hai fatto ad entrare in Evelyn? Come hai fatto ad entrare in Evelyn? Quali tecniche hai usato? Quelle tecniche hai usato? Lasciami con Evelyn. Laisse-moi con Evelyn. Deconnect Evelyn. Deconnect. Ok, Evelyn, ok. Vado lavorando un po' con te e un po' con Angelo, ok? Je travaille un po' con toi e un po' con Angelo. C'est bon? Quindi attentissima a quello che diciamo. Non ti distrarre perché voglio che lo visualizzi, lo crei, lo co-crei con noi e poi passo a te. Du coup, tu dois faire attention à ce qu'on dit. Ne te distraies pas parce que je veux que tu visualisies et tu co-creies avec nous. Bene. Angelo, lasciami con questo umanoide. Angelo, laisse-moi avec cet umanoide. Meglio parlare con Angelo, attraverso Angelo. C'est mieux de parler par travers Angelo? E' meno puro. C'est moins puro. Che vuol dire, meno puro? E qu'est-ce que ça veut dire, c'est moins puro? Diciamo che lo manipolo meno. On dit che je peux le moins manipuler. Fammi capire. Una persona non pura cosa ha fatto per non essere pura? Fais-moi comprendre. Quelqu'un che non è pura cosa ha fatto per non essere pura? Depende dal concetto di purezza. Depende dal concetto di purezza. Depende dal concetto di purezza. Se fa parte della manipolazione oppure non? Si fa parte della manipolazione oppure non? Ok. Ma tu pensi realmente che io ti stia facendo delle domande perché ho bisogno della tua risposta? Pensi che io stia facendo delle domande perché ho bisogno della tua risposta? A me le domande servono per sapere come tu rispondi. Le domande servono per sapere come tu rispondi. Ma chi è questo nome qua? C'è chi? C'è chi? C'è chi? C'è chi? Tentativo di nascondermi. Un tentativo di me cacere. E questo rettangolo? E il rettangolo? E il rettangolo? Il rettangolo? Il rettangolo? E il rettangolo? E perché riusci? E perché rigolis? E perché rigolisci? Tutta questa situazione a me diverte. perché questa situazione m'amuse immagina a me io non vedrò di fare delle sessioni per divertirmi perché sai alla fine con le sessioni non si perde mai tutto è unidirezionale e tu sei nella direzione sbagliata lo sai no e tu sei tu sei la direzione mauvaise il tempo è finito il tempo è terminato lo sai no tu lo sai no non ridi più tu non rigolo più anche questo fa parte di tutto certo preferivo stare lì e fare quello che volevo aspetta un attimo che rientra Francesca ecco vabbè fa niente non mi preoccupare senti un po' perché hai usato Evelyn nei suoi momenti di delirio? perché hai usato sentito di una condizione favorevole sì però se tu dai delle informazioni come salvare la terra a sparare queste minchiette qualcuno ci crederà per esempio può utilizzare un'influenza di cui parli tu sono mentalmente organizzate e non possono essere usate in questo modo devono essere complici io voglio sapere perché dici hai detto queste cose a Evelyn di andare verso gli altri cosa vuoi farla diventare pazza? vuoi la far diventare folle? diciamo che è già predisposta di suo a causa degli abusi che ha subito dimmi perché vuoi che perde il controllo mentale niente di personale lo facciamo con tanti con tutti quelli che possiamo beh e dimmi cosa ci guadagni a fare questo per curiosità è un modo di generare condizioni del pianeta stesso c'è una forma di creare le condizioni del pianeta beh lasciamo con Angelo e lasciamo con Angelo disconnetti Angelo ci sono che peso ma vedi ancora l'ognome rettangolo o non più vuoi tu ancora l'ognome rettangolo tu ne vuoi più no ok allora dimmi Angelo se il pensiero il dubbio che è arrivato a Evelyn circa la possibilità di creare di avere un cancro a causa del suo stress per mantenere la presa la paura per guardare che ha approfittato un'immagine complesso di energia che ha approfittato che ha approfittato che ha approfittato questa energia quindi alimenta questa pressione sull'essere umano in generale di disperazione quindi quindi gente che ha paura che gli possa venire fuori un cancro gente ha paura di una guerra nucleare e tutta questa roba qua no? sì sì du coup le gens che l'on port peuvent avoir un cancer di un guerre nucleare e tout ce genre de porc'è ça? ok posso dire una cosa io io so perché proprio mi è arrivata la chiarezza che il papà di Evelyn è collegato diciamo all'occupazione di Evelyn da parte di questa entità che si chiama Edgar posso dire una cosa io so che il padre di Evelyn è collegato a questa entità che si chiama Edgar allora facciamo così adesso cominciamo a lavorare Evelyn però prima andiamo a scoprire come è entrato questo humanoide in te Evelyn ora on va travailler ma prima on va découvrir come cet humanoide è entrer all'interior di innanzitutto finora base a quello che ha detto Angelo tu cosa pedi avant tutto jusqu'à presente par rapport a ciò che Angelo viene di dire che vois tu l'humanoide il è con questo processo Allora, in ospedale psichiatrico, praticamente questa entità è molto potente e presente. All'interno dell'ospedale psichiatrico, questa entità è molto presente e puissante. Il padre diventa un vettore come tutti quelli che ci lavorano. Il padre diventa un vettore come tutti gli altri che ci lavorano. Ok, allora, ok, si, si, capisco, capisco. Visto, ogni persona nel bene e nel male è sempre collegata energeticamente ai genitori o ai figli perché sono le persone molto vicine emozionalmente. Chaque persona, nel bene e nel male, è sempre collegata a ses parents perché sono persone molto proche, al niveau energico. Ma dico questo per andare un po' più veloce. Juste di questa per andare più rapidamente. Quindi è facile che se una di queste persone a cui energeticamente siamo legati è interferita, è molto facile, è molto più facile che possa essere usata come canale di trasmissione. Quindi attraverso delle manipulazioni, attraverso delle tecniche, è possibile poterlo fare. Allora, andiamo un attimo con calma. Il padre, ovviamente la parte subliminale del padre, osserva l'humanoide collegato a Evelyn e dimmi se il padre fa da ponte o semplicemente ha fatto da contatto per l'ingresso dell'entità e non altro. Osserva il lien entre son padre e Evelyn e dismi se il padre l'ha fatto giusto che ponte o contatto entre Evelyn e l'entità. E un ponte tra Evelyn e le sorelle anche. C'è il ponte entre Evelyn e le sorelle anche. E dimmi se la madre, anche se ormai non più nel mondo fisico, fa parte di questo catalizzatore. E dimmi se sa mère aussi fa parte di questa catalizzazione. Non. E l'ex compagno, anche questo ormai è disincarnato. E son ex compagno è disincarnato anche? Non. Ok, un'altra cosa e poi cominciamo a lavorare. Qual è la causa esoterica della sua, la virgolette, asessualità? Un'altra cosa e poi cominciamo a lavorare. Qual è la causa esoterica, entre guillemets, di sua asessualità? Depressione. Depressione. Ok, vuoi dire che quella disperazione, alla fine, ne consegue una depressione che non fa altro che indebolire la libido? Tu vuoi dire che questo sentimento di desespoir fa una sorta di affaiblire la libido? Ok, guarda un attimo, poi cominciamo a lavorare, la sua zona genitale e dimmi se vedi qualcosa di strano. Regarde sa zona genitale e dimmi se tu vois qualcosa di bizarro. Quando lui si è alzato in piedi, ha iniziato a letteralmente stare sulla zona genitale, cioè in piedi proprio lì. Quando lui si è alzato in piedi, ha iniziato a restare debù sulla sua zona genitale. E poi quando si è messo di fronte a lei? E poi quando si è messo di fronte a lei? E rimasto sulla zona genitale di fronte a lei, cioè su di lei praticamente. E lei è resta debù, in fronte a lei, sulla zona genitale. Ok, perché c'è questo contatto forte con la zona genitale? E perché c'è questo gros contatto con la zona genitale? C'è qualche comportamento del padre su quel livello? A questo livello, c'è qualche comportamento del padre. Dimmi se vedi comunque della tecnologia aliena nel suo ventre. Dimmi se tu vois della tecnologia aliena nel suo ventre. extraterrestre. Ok. No. No. Ok, lasciami con la parte subliminale del padre. Non importa se è vivo o morto, lo sappiamo già. Lassimo con la parte subliminale del suo padre. Ce n'è problema se è vivo o morto, on lo sa già. Papà di Evelyn? Sono qui. Vabbè, caduta per se... Sto seguendo tutto. Ok. Come stai? Comienza qua. Ho perso pace man mano che mi riportate a questi ricordi. C'è parte... Aspetta un attimo. Dimmi una cosa. Tu in quale parte del corpo di Evelyn stai? Aspetta un attimo. In che parte di Evelyn esi? Non sto, però sono stato collegato con i suoi genitali. E perché stai collegato con i suoi genitali? E perché stai collegato con i suoi genitali? Le mie mani hanno toccato durante il sonno. Le mie mani hanno toccato durante il sommeo. Ok. Lasciami con Angelo. E lasciamo con Angelo. Deconnecto Angelo. Disconnecto. Sì. Sì. Ci sono. Osserva energeticamente se il padre di Evelyn è attaccato a lei in qualche maniera. Observe su niveau energetico. Il padre di Evelyn è ancora connectato a lei in qualche maniera. Sì, c'è questa sorta di ponte di cui parlavamo prima che è proprio stabile. Tra lui, questa entità e le sorelle. C'è un ponte. Il y a questo tipo di ponte entre Evelyn e ses sœurs che c'è qualcosa di stabile. Ok, Evelyn, cominciamo a lavorare, ok? Evelyn, come si è lavorato, è d'accordo? Sì. Ok, guarda. Io ressensi le dolore di mio padre dans le cotone. Il ha du mal a respirare. E moi aussi, j'ai du mal a respirare, come lui. Sento dolore di mio padre nelle costole, ha difficoltà a respirare, e anche io ho difficoltà a respirare come lui. Tuo padre è vivo o è morto? Ton padre è vivant o no? Il è vivant, ma il ha enormement de mal a respirare. Ça lui oppresse tutta sa cassa toracica e il prende souvent le cotone perché il ha tre, tre mal e j'ai ces douleurs là. È ancora vivo, ma ha difficoltà a respirare, gli fa male la cassa toracica, gli opprime e io adesso in questo momento molto male. Ok, allora facciamo così, Evelyn. Adesso devi dire a tuo padre di uscire dal tuo corpo. Beh, Evelyn, non fai com'è il fatto che tu dici a ton père di sortir da ton corps. Ovviamente stiamo parlando della sua parte subliminale energetica, io non c'entra niente ancora con la fisica. Clairemente, on è in train di parlare della parte subliminale energetica, che non ha niente a vero con la parte subliminale energetica. Il sta uscendo dal tuo corpo e si sta mettendo di fronte a te. Il è in train di sortir da ton corpo, il è in train di se mettere in fronte a te. Beh, quando è fuori, di fronte a te, dimmi lo. Quando è fuori, di fronte a te, dimmi lo. Cosa vuoi dire? Intanto dimmi da dove esce, esattamente. Déjà, dis-moi, depuis où il sort exactement? J'ai du malo con le coste. Un malo con le coste. Beh, al mio tre esce completamente dalle tue coste. Amo troia, il sort complètement da te coste. Un, due, tre. Come va con le coste? Comment ça va avec les côtes? Toujours mal là. Ho sempre mal là qua. Ok, ok, facciamo un'altra cosa allora, dai. On va faire autre chose là. Ok, Angelo. J'ai aussi mal aux ovaires. On malait anche aux ovaires. Sì, 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 sì. Eh, vabbè, tuo padre è collegato... Bueno, tuo padre è collegato aux ovaires e poi tu senti il problema respiratorio di tuo padre. Quindi è ovvio che ti facciano male aux ovaires. Ton père è connecté aux ovaires e tu ressens le problema aux côtes de ton père. Du coup, c'est normal che ti ressens mal soit aux côtes que aux ovaires. Quindi cominciamo il lavoro. On commence le travail. Beh, Angelo, adesso dis al padre... Non. Lasciami con la parte subliminale di Evelyn. Laisse-moi avec la parte subliminale d'Evelyn. La chiamerò Eve. Je vais l'appeler Eve. Eve? Eccomi. Oh, contenta? E tu es heureuse? Ah, sì. Allora, ascolta, ascolta, ascolta. Aiutami. Ascolta. Sì. Ecoute-moi. Prendi per mano tuo padre. Prendi ton père dans tes mains. Sì. Ok. Adesso, con l'altra mano, apri un portale, disegni un portale. Avec l'autre main, maintenant, tu dois dessiner un portale. Però, quando lo disegni, devi pensare a un posto bellissimo che c'è dall'altra parte. Mais quand tu dessines ça, il faut que tu penses à un endroit merveilleux qu'il y a de l'autre côté. Ok. Apre le portale et dimmi quale posto c'è dall'altra parte. Ouvre le portale et dis-moi quel est l'endroit qu'il y a de l'autre côté. C'è un lago, ci sono végétation, il cielo azzurro, è un piccolo paradiso. Il y a un lac, végétation, le ciel è bleu, il è un petit paradiso. Deve essere un posto senza paura e senza colpe. Il faut qu'il soit un endroit sans peur e senza sens di culpabilità. È così. Perfetto, allora, accompagni il tuo padre dall'altra parte del portale. Maintenant, tu dois accompagner ton père dall'autre côté du portale. Bene, quando siete lì, dimmelo. Quando vous étiez dall'autre côté, tu peux me le dire. Tu sei? E tu l'as? Eh. Bene, chiede a tuo padre come si sente in questo posto. Tu ne sais pas ton père, comment il va dans cet endroit. Ah, anch'io sto meglio qui. Moi aussi je vais mieux là. Ah, sì. Chiede a tuo padre come si sente in questo posto. Chiede a tuo padre se vuole ritornare dove stava prima o se vuole rimanere in questo posto. Demanda a ton père s'il veut rester dans cet endroit o il vorrebbe venir là où il était avant. Si è seduto per terra e non ha nessuna intenzione di alzarsi. Il est assis par terre et il a grande intenzione di se lever. Oh, qu'estrana manière de communiquer. Quel bizarre moyen pour communiquer. Ok, comment te senti, Evelyne? Comment vas-tu, Evelyne? Grâce à ce que j'ai encore quelques douleurs à ce niveau-ci. J'ai moins de douleurs dans la poitrine, surtout au niveau des côtes, mais j'ai toujours des petites douleurs là. J'ai moins de douleurs au niveau des côtes, mais j'ai encore des douleurs sur la zone genitale. Certo, certo. Ok, maintenant, Evelyne, tu dois dire à ton père que si veut rester là, il doit sortir complètement du corps et du corps de tous les autres. corps dans lesquels il se trouve. Bien, dis-moi de combien de corps tu vois sortir. Il est en train de sortir de plusieurs corps en même temps. et il a profité de plusieurs situations entre ses proches, ses patients. Il est en train de comprendre qu'il est juste, qu'il ne pouvait pas faire que ça. Bien, quand le vedi complètement fuori dal tuo corps et de tous les autres corps, Evelyne, dis-melo. Evelyne, quand tu le vois complètement dehors de ton corps, tu peux me le dire. Oh, si, il a recuperato tutto, il si è alzato in piedi ed è forte, stabile, contento, non gli sembra vero. Sta bene. Ok, aspettiamo Francesca. Ok, sta bene, dice che sta bene, ok. Sì. Vai Francesca, sta bene. Sì, le va. Ok. Sta esplorando il paesaggio. Aspetta un attimo che rientra Francesca. Ok, Francesca, sì, vabbè. Ok, aspetta, aspetta, non perdiamo tempo perché ho problemi di connessione, Angelo, aspetta un attimo. Sì. Evelyne, come stai? Io mi sento fuori posto. Aspetta, aspetta. Deconnete. Angelo, disconnete. 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 Ok. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta. Aspetta, aspetta. Come stai, Evelyne? Come stai, Evelyne? Aspetta, aspetta. Ça va a peu près, j'ai moins mal au dos. Più meno. J'ai plus mal au cote, mais il reste des petites choses qui travaillent à l'intérieur de mon ventre. Aspetta, eh? Ok, ok, atta, Evelyne, atta. Oui. Allora, non so, hai sentito Evelyne, Francesca? Ha detto, va più o meno, meno mal à la schiena, ma après... Vabbè, dai, uguale, 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 meno mal che abbiamo finito questa sessione, no? Adesso dobbiamo pensare all'ultima cosa. Ok, adesso dobbiamo pensare all'ultima cosa. L'umanoide, dove lo vedi, Angelo? Uvo, tu l'umanoide, Angelo. È in un angolo rannicchiato, piccolino. Dans un coin tout petit. Ok, Evelyne, adesso l'umanoide ha molto meno potere, visto che non ha più il ponte creato da tuo padre. Evelyne, maintenant l'umanoide ha beaucoup moins de pouvoir, parce qu'il n'a plus le pont qu'il avait créé avec ton père. Ed è arrivato il momento di distruggerlo. Ed è arrivato il momento di lo détruire. Ed è arrivato il momento di togliere quel permesso che per qualche motivo gli hai dato, e quindi non può più stare nel tuo spazio e sparisce. Ed è arrivato il momento di lui enlever la permission che, per qualche ragione tu lui ha dato, non può più restare all'interno di tuo spazio, e, dunque, va sparisce. Bene, dire all'umanoide di metterci davanti a te, e quando lo senti o lo vedi davanti a te, dimmi lo. Tu dois dire all'umanoide di se mettere in fronte a te, e quando ti lo vedi o tu lo senti in fronte a te, tu puoi me lo dire. Bene, è davanti a te, Evelyne. Ed è in fronte a te, Evelyne. Ed è molto più deboli, quindi è anche un po' più difficile da capire. Adesso è molto più faile, quindi è più difficile di contattare, di vedere, di sentire. È tutto, Angelo? Sono collegato ad Evelyne. Vivo un'esperienza bellissima, non so descriverla. Io sono collegato ad Evelyne e sono in fronte a una esperienza meravigliosa, non posso la descrivere. Ok, Evelyne, adesso al mio 3, tu distruggi questo umanoide e gli togli il permesso di stare nel tuo spazio. Adesso, mon 3, Evelyne, tu detruis questo umanoide e tu lui enlèvi la permission di restare all'interno di tuo spazio. Al mio 3. Al mio 3, tu lo detruis. Un, due, tre. Ok, che è successo altre, Angelo? Qu'è ci si è passato al numero 3, Angelo? Uverizzato completamente. Il è diventato poudre, poussiere. Come ti senti, Evelyne? Come va tu, Evelyne? Mio. Mio. Ok, niente, possiamo chiudere. Angelo, dimmi se c'è qualcosa o possiamo chiudere. Angelo, dimmi se c'è qualcosa o possiamo chiudere. Eve ha chiuso il portale, ritornando di qua perché non poteva restare lì ed è rientrata in Evelyne. Stanno benissimo adesso. Eve, il ha fermé le portale, il è revenu di questo côté perché non poteva restare lì ed è rientrata in Evelyne. Beh, adesso, disconnettete da tutto e da tutti. Maintenant, vous devez déconnettere de tutto e tutto. Il vostro corpo sta cominciando a risvegliarsi. Votre corpo è in train di se riveiller. Senti il corpo sempre più forte. Tu ressensi ton corpo toujours più forte. È leggero. È léger. Apri gli occhi. Urli gli occhi. Come va, Angelo? Molto bene. Come va, Evelyn? Senti qualche differenza tra le prima e le dopo sessione? Ressenti le differenza tra l'avance e l'avance? Oui, non ho più malo au dore. Non ho più malo alla schiena per niente. Non ho più sensazioni a livello di ovarie che tirano. Non ho più sensazioni a livello di ovarie che tirano. Mi sento molto più leggera. E mi sento molto più leggera. Perfetto. Cosa vuoi di più della vita? Che vuoi più della vita? Oh, God. Vuoi che si pubblichi la tua sessione? Vuoi pubbliare la sessione? Sì, con l'avviso coperto. Ok. Chiudo la registrazione. Au revoir. Ciao a tutti. Ciao a tutti.